Dunque meno di sei ore e mezza al fischio d'inizio al Bente Godi e noi ci colleghiamo in diretta con Verona, con il nostro Enrico Giancarli per le ultimissime, insomma rispetto a quanto abbiamo già detto nel servizio che abbiamo proposto e soprattutto sulla partecipazione anche di alcuni supporter biancazzurri, credo siano tanti, insomma questa trasferta che apre la seconda parte della stagione per il Pescara. Te Enrico in diretta dal Bente Godi. Sì, ciao Carmine, buon pomeriggio, buon pomeriggio a te, naturalmente un saluto a tutti gli amici dell'ascolto al TG8, alle mie spalle lo potete vedere lo stadio Bente Godi di Verona, questa sera ore 21, fischio d'inizio della prima semifinale. Vi racconto che già c'è qui a Verona, si respira il clima della partita che conta, abbiamo un po' ascoltato gli umori, la piazza sente molto questa partita, saranno 548 tifosi, o meglio i biglietti venduti per i tifosi del Pescara. Già qualcuno l'abbiamo visto con le sciarpe biancazzurre nel cuore di Verona e dunque siamo pronti per raccontarvi questo grande evento, la semifinale di andata del match tra Verona e Pescara. Come hai detto bene tu in apertura di telegiornale, ti ascoltavo in cuffia Carmine, il Benevento ha ipotecato in rimonta alla finale, perdeva 1-0, poi la vittoria 2 per 2 reti a 1 sul campo della Cittadella. Ti confermo naturalmente quello che aveva già detto con precisione Massimo Profeta, ovvero la formazione del Pescara e quella dell'ultimo turno di campionato con la Salernitana. Andiamo a ricordare ancora una volta, Fiorillo tra i pali, Balzano e Pinto, esterni della difesa 4 completata dai centrali Scognamiglio e Bettella. Brugman regista, da un lato Memusciai, dall'altro Crecco come mezziali, davanti Mancuso, riferimento centrale, Sottil agirà alla sua sinistra, Marras alla destra. È pienamente recuperato Campagnaro che però parte della panchina, così come per Rotta che ha scontato il turno di squalifica. Sta meglio Cristiano del Grosso, panchina anche per il terzino classe 83, non resta che attendere le 21 per il fischio d'inizio del signor Livio Marinelli di Tivoli. Due precedenti in stagione per il Pescara con Livio Marinelli di Tivoli. Il successo per 2 reti a 0 nella gara interna contro lo Spezia e l'ampia sconfitta subita alla Barbera contro il Palermo. Noi ci saremo dalle 20 e 15 con diretta calcio per la prepartita per le formazioni ufficiali sul canale 11, Rete 8 Sport naturalmente. Dalle 20, dalle 21 andremo in diretta con gli aggiornamenti dall'interno dello stadio, poi le interviste in diretta in esclusiva in Mix Zone. Dunque una serata ricca di calcio sul Rete 8 Sport con il Pescara che si gioca le sue chance per l'accesso alla finalissima. A te Carmine.